Oggi torniamo su Brow Stars per completare il Brow Pass, io ho il Brow Pass Plus e quindi arriveremo a beccarci anche la skin, questa qui bellissima di Buzz Ferry, la versione oscura, troppo bello, troppo fantastico, ho già questo qui la versione anziano ma quella oscura davvero non vedo l'ora di vederla. E soprattutto ragazzi io credo di aver completato questo Brow Pass davvero in pochissimo pochissimo tempo perché poi mi restano altri 17 giorni, cosa succederà quando io avrò completato il mio pass? C'è scritto ricevi premi bonus ogni volta che ottieni 1600 XP del Brow Pass, quindi ogni volta che ottengo tot esperienza mi daranno un drop, lo scompliremo in questo video. Poi mi raccomando ragazzi lasciate un mi piace adesso per altri video del genere e vi ricordo che una volta a settimana, ogni domenica per ora, qui sul canale c'è una live dedicata a Brow Stars, proprio ieri ne abbiamo fatta una, anche se è un viaggio temporale questo qui perché io vengo dal passato e la live non l'ho fatta ancora. Allora, in realtà io sono, iniziamoci a beccare questi, bling, monete, già, già, becchiamoci anche queste altre monete, becchiamoci questi, becchiamoci questi, manca poco per sbloccare Edgar, ok? Ehm, ma sapete cosa? Becchiamoci anche questa nuovissima skin, Feryl Oscuro, ah quindi in totale sono tre le skin? Va bene, va bene, mi ero persa questa, quindi erano le tre skin di Feryl, di Buzz. Buzz che adesso mi vado a portare al 10, ce lo portiamo al 10 e vado in realtà a comprare anche questo che mi aumenta la capacità di stordimento di Buzz. Sono duemila, sì è vero, sono tanti, li spendo, cambiamo la skin con Feryl Oscuro, lo selezioniamo, mi restano ancora un bel po' di monete, non le vado a spendere ancora perché devo decidere un po' che cosa fare e a livello di missioni ragazzi abbiamo vinci tre battaglie in sopravvivenza in due, ok? Oppure vinci battaglie con queste, quindi io mi vado a fare la sopravvivenza in due con il nostro amico, avrò 200 drop, avrò 200 di esperienza che comunque ci vanno bene e poi facciamo un'altra missione perché poi mi basterà fare un'altra missione per completare il pass. Quindi siamo con 8 bit, sempre ghiaccio al nostro Buzz, ok? Buzz veramente è uno dei migliori brawler in mio possesso, è davvero quello con cui mi ci trovo molto meglio. Vieni qua, sto diventando spericolata, datemi un secondo, allora quindi questi sono amici? Perfetto, no, non erano amici? Sì erano amici, oddio il mio compagno di squadra si è riandato. Vieni qua, facciamo così e ci allontaniamo un po' perché questi stanno venendo da me e io ho pochissima vita e sono andata. Va bene, il volume è troppo alto. No, non fare così, vabbè ragazzi, prima partita è andata male ma facciamo così, ci apriamo il drop che mi avete detto parte sempre da raro quindi ok e poi potrebbe migliorare. Questo qui non è migliorato, sei proprio un fantastico ragazzo. Siamo prossimi a questo, in realtà con la prossima vittoria mi becco anche questo drop e ho superato i 5400 trofei, mi accingo ad andare a quelli 5500. Quindi andiamo, sopravvivenza in due, ci riproviamo. Possiamo riprovarci tranquillamente, ce la faremo, sono molto scialla e molto convinta di potercela fare. Tra l'altro guardate che belle le mie mollette con le ali che si muovono, ma va bene. Allora, allora, che cos'è una specie di tic questo? No, 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 non so che bruner è questo qui, quindi ok. Avevo visto qualcosa muoversi lì in alto, infatti ecco. Aspetta, 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 oh mannaccia la brioche, che cosa abbiamo fatto? Va bene, va bene, va bene, si può fa, si può fa, si può fa. Sordito, andato, questo sta scappando, ma va bene. Va bene, recchiamoci queste scatole. Ok, questo, questo, mi stanno facendo, mi hanno fatto. Scappa, scappa bro, ok, ok, aspetta, un frito al naso, incredibile ovviamente. Ok, lì stanno litigando male. Siamo rimasti solo noi, Nita e, boh. Ma io ti stordisco e abbiamo vinto. Perfetto, mi sto divertendo, si va a 9,3, no, ehi, si va e ho avuto 200, più il bonus di 300 per la soglia. Allora, drop della vittoria, 300, epico ragazzi, siamo passati a epico, epico, vabbè. Monete, male non è, male non sono queste monete, ok? Allora, mi restano circa altri 300 di esperienza e ci andiamo a fare vinci 5 battaglie o causa 100.000 punti d'anno. Io andrei a fare le vinco le mie 5 battaglie e ne approfitto anche per provare, in realtà, mi approfitto anche per provare Grif, perché quando lo incontro, anche se adesso il mio ha un livello estremamente, estremamente basso, con Grif, quando lo incontro, perdo, spesso, cioè, quindi vorrei capire com'è la situa con Grif. Open power business. Ok, questo arriva davvero molto lontano, perfetto, ha un raggio d'azione altissimo. Ok, abbiamo lanciato le nostre banconote, uh, oh, vuoi camminare? Ok, quindi una squadra è andata. Open power business. Ok. Prende davvero da lontanissimo, comunque, questo Grif. Veramente, veramente da lontano. Ok. Ed Edgar è lì in mezzo, ma da un punto lo dovremmo prendere, perfetto. Scontro finale. Sprecata, ok. Avrei dovuto provare a vedere quanto lontano arrivava. Vabbè, va bene. Serie di vittorie. Ok, no, vabbè, io devo vincere le mie 5 battaglie per portarmi a casa l'esperienza e completare il mio bro pass. Ragazzi, guardate, credo di averlo completato davvero velocemente. Complice anche il fatto che, avendo comprato il pass plus, mi dava più esperienza perché c'erano più missioni da fare. Cioè, per esempio, altre persone che giocano sono ancora indietro con il pass perché magari hanno soltanto le missioni, quelle lì, giornaliere, o comunque quelle lì bloccate. Sono incastrata nel muro dal pass. Quindi, aver acquistato il pass mi ha davvero aiutato un botto. Ok. Siamo in mezzo proprio alla mischia. Lui colpisce da lontanissimo e questa cosa è favolosa. Vabbè, loro si sono separati. Torniamo indietro ad aiutare Melody. Ok. Ho mirato proprio, non si sa bene come, dove, ok. Perché lui mira veramente, favolosamente, lontanissimo. Allora, lei sta aspettando che resusciti l'amico. Ora, se io riesco a farmela, a distruggerla, mannaccia. Prima che resuscita, ottimo, è noi resuscitato. Quindi sono andata. Speravo di riuscire a distruggerlo prima. Però, ok. Ah, quindi Melody era andata e io non me ne ero accorta. Vabbè, raga, ci vediamo direttamente quando avrò fatto le mie vittorie e avrò completato il pass. Quindi ci vediamo tra un attimo. Zip, zip. Ok ragazzi, se vinco questa, ho il drop dello star drop finale delle dieci vittorie del giorno. Quindi sarà l'ultimo drop. E poi, credo che mi manchi una missione o due battaglie per vincere, proprio per avere la missione. Quindi sono, sono veramente euforica. Sono molto, molto contenta. Non vedo l'ora di scoprire che cosa succede se finisco il pass. Così poi posso dedicarmi in una delle mie attività preferite, ovvero quella di shoppare. E quindi potrò iniziare a shoppare skin, potrò iniziare a shoppare cose, a ridere e scherzare con le mie skin dei BT21. Ti prego, ok. Ciao boh. Questo è per te boh? Ok. Abbiamo vinto. Ti stai divertendo? Allora ragazzi, drop, drop. E poi mi manca una vittoria appunto per vincere. Drop, drop. È partito con il raro ragazzi. È partito con il raro. Raro ancora? È raro ancora? Ed è raro però dimmi che sei soldi. Soldi, 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 soldi. 50 monete. Ce le facciamo andare bene comunque ragazzi. Ce le facciamo andare bene comunque. Allora ragazzi, una vittoria per completare il pass. Una sola vittoria. Quindi andiamo sempre in due, si andiamo sempre in scontro. Va bene così, andiamo e scopriamo. Speriamo di essere in squadra. Siamo in squadra con Pam che ci dovrebbe curare. Non mi sembra di vedere gente proprio, brawler proprio fortissimi. Quindi possiamo andare. Allora iniziamo. Perché è sto pollice in giù? Pollice in giù a me. Ma pollice in giù a te. Allora, dov'è? Sono incastrata nel muro. Ok, uno è andato. Un altro è andato. Questi sono due. Questi sono due. Vado con la suprema. Ok, già scontro finale? Ottimo. Allora, siamo abbiamo otto di questi. La smetti con sto pollice in giù che sei fastidioso? Dov'è? Dove saranno? Dove saranno? Da quel lato? Chi spari? Dove vai? Eccolo. 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 Ok. Uno è andato. Ah, noi lo abbiamo distrutto. Ok, guardate com'è. Ok. Uno. Quell'altro intanto faceva quel che stava facendo. Io ho portato giù la squadra. Più eliminazione. Allora raga, con questa vittoria abbiamo completato il pass. Guardate perché adesso mi vanno le 500 di esperienza vanno lì ed è fatta. Ora mi porta che 1600 potrei avere altri drop. Allora, iniziamo a beccarci la skin di quest'altro. Ok. Nuova skin BuzzFair. Ok. Dove riceviamo l'icona del giocatore e Buzz. Il titolo. Divinità in terra. Va bene. E ragazzi abbiamo il drop leggendario. Sono pronta. Ho il mio drop leggendario. Ti prego. Non so, ragazzi, non so che divinità pregare. Cioè, in questo caso mi convenirebbe dato che è tutto legato a Thor, Ragnarok, così. Che mi conviene pregare. Odino. Thor. Loki. Cioè, che mi conviene pregare. Ho cliccato. Raga, ho cliccato. Sono pronta. Broder. Ok. Nuovo brawler Buster. È un tank. Ed è mitico. Buster ha preso in prestito uno dei proiettori del cinema in cui lavora. Così ci può almeggiare come meglio desidera. Chi non lo vorrebbe uno così come impiegato? Ok. Quindi abbiamo sbloccato un nuovo brawler. Mitico. Ok. Eccolo qua. L'ho visto poco in giro. Quindi, raga. Com'è? Me lo consigliate? Lo utilizzate? Non lo utilizzate? Fatemelo sapere. Consigliatemi giù, giù, giù nei commenti. Ovviamente io continuerò a fare le mie missioni. Sicura queste qua in realtà probabilmente già le avrò fatte in live. Per vedere. Quindi con queste ho altri 1500 di esperienza. Più altri 100. Quindi in live può essere che ci becchiamo il drop questo qui. Vabbè. Ok. Voi già la saprete questa cosa. Io non la so ancora. Però ok, raga. Io ho il mio buzz. Io ho il mio buzz con le sue tre skin. C'è questa qui, questa qui, questa qui. Però questa qui mi piace di più perché è rosa. Quindi io con il mio vero scuro, pronta a scassare i popò nella classificata, scassiamo e vinciamo. Quindi ragazzi, voi a che punto siete del vostro pass? E inoltre, il broder che ho trovato, vi consigliate di usarlo oppure no? Un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Ci vediamo domani con un nuovissimo video. E mi raccomando, non smettete mai di sognare. Ciao!